Per quest'anno puoi cambiare, agli asca devi andare, se ti piace pagagliare, l'escursione ha più prezzo devi far, e piedi un po' di corsa, o con la bicicletta, l'autonomo da portare, 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 che in fondo non ce n'è, ce n'è, ce n'è, per quest'anno puoi cambiare, agli asca devi andare, se ti immergi puoi osservare, tanti pesci, tanti pesci insieme a noi, chi ti ha la mascherina, le pime di boccaglio, il tec uccide in mano, là sotto, là sotto, guarda e non toccar, 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 per quest'anno puoi cambiare, agli asca devi andare, se ti piace pagagliare, l'escursione ha più prezzo devi far.